FONDAZIONE ALTA GAMMA In quest'ottica proponiamo oggi l'aggiornamento dei due nostri principali studi, il consenso s'ALTA GAMMA presentato dal segretario generale di Fondazione Alta Gamma, dottor Armando Branchini, ed il monitor alta gamma sui mercati mondiali presentato da Claudio Arpizio di Bain & Co. Siamo lieti che le indicazioni che emergono delineino un quadro incoraggiante. Buongiorno, come il Presidente di Fondazione Alta Gamma, Santo Versace, ha appena detto, abbiamo ritenuto opportuno organizzare questa riunione primaverile dell'Osservatorio Alta Gamma per dare gli scenari del 2011 che, come vedremo, sono scenari più positivi, più ottimistici rispetto a quelli che avevamo dato con l'Alta Gamma Consensus 2011 nello scorso ottobre. Lo stesso 2010 ha chiuso in modo migliore del previsto. Il 2010, con più di 170 miliardi di euro di consumi nel mondo per i personal luxury goods, per i beni di alta gamma, beni di lusso per la persona, ha segnato il record storico, superando di slancio l'anno record precedente che, come ricordate, era stato quello del 2007. Per cui, sostanzialmente, possiamo dire che con il secondo semestre del 2010, l'anno Sorribilis 2009 e anche il cattivo secondo semestre 2008, come risultato della grande crisi finanziaria nata negli Stati Uniti, sono stati del tutto superati. Come vedremo, anche questo aggiornamento delle previsioni del consenso Salta Gamma per il 2011 dà una serie di indicazioni molto interessanti. Vorrei, prima di tutto, ringraziare gli analisti internazionali che, anche per questo aggiornamento del 2011, hanno collaborato con Fondazione Alta Gamma. A Bene & Co. Italy, Bank Fontobel, Barclays Capital, Citigroup, Credit Agricole Chevroë, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Kepler Capital Market, Morgan Stanley, Natixi Securities e Unicredit. Noi vogliamo ringraziarli ancora per il loro contributo, sempre particolarmente utile per noi. E iniziamo con questo aggiornamento di questo maggio 2011, cominciamo dai prodotti. L'abbigliamento segna una crescita del 10% nell'anno intero, con uguale crescita anche nei due semestri, sempre del 10% nel primo semestre e del 10% nel secondo semestre. Nell'ottobre scorso avevamo preconizzato una crescita al 7,5%. Perché questi due punti e mezzo percentuali in più? Perché abbiamo avuto i risultati del primo trimestre molto positivi, non solo in Asia, ma anche in Europa e anche negli Stati Uniti, sia a livello dei negozi retail che a livello dei department store. E per quanto riguarda il secondo semestre abbiamo avuto una indicazione molto positiva per quanto riguarda gli acquisti wholesale. che come sapete nel caso dell'abbigliamento sono stati fatti tra gennaio, febbraio e marzo di questo 2011. Per cui sostanzialmente la nostra previsione per l'abbigliamento è più 10%. Per quanto riguarda il settore Ardella-Table abbiamo un 3,8%, sapete è un settore piccolo, è un settore che è stato colpito molto nel 2008-2009, sostanzialmente c'è una crescita. Il 3,8% è anche un po' superiore al 3,3% di crescita che era stata la nostra previsione di ottobre. Ottime notizie per quanto riguarda il settore della gioelleria, degli orologi, delle penne e degli accendini, il cosiddetto settore Heart Luxury, che è previsto crescere dell'11,5% nell'anno con una crescita ancora superiore percentualmente del 12% nel primo semestre e poi di un 10% nel secondo semestre, anche perché il secondo semestre 2010, ricordate, era stato molto positivo. Perché? Perché le vendite erano state molto forti e già alla fine del 2010, soprattutto all'inizio del 2011, abbiamo molti segnali di restocking. Il sistema distributivo ordina e si rimette prodotto in casa in previsione di vendite sostenute. Per quanto riguarda il settore degli accessori, particolarmente degli accessori in pelle, anche qui una previsione di crescita interessante del 13% nel primo semestre, nel 12% nel secondo semestre per una media del 12,5%. La previsione di ottobre si era attestata all'8%, per cui anche qui un segno di ottimismo condiviso da tutti i collaboratori, da tutti gli analisti internazionali che collaborano con la nostra fondazione per l'alta gamma consensus. Infine anche una buona indicazione positiva di crescita per il settore dei profumi e della cosmetica, 6,5% nel primo, nel secondo semestre e nell'anno intero. Anche qua la previsione di ottobre era stata inferiore al 5,8%. Veniamo ora ai mercati. I mercati, cominciamo dall'Europa, l'Europa la previsione dell'intero anno è di un 7%, con un primo semestre ancora migliore, l'8%, e un secondo semestre soltanto del 6%, diciamo, ma anche qui perché il secondo semestre del 2010 era stato sostanzialmente positivo. In Europa, come dire, l'Europa complessiva conferma di essere il più grande mercato al mondo per i prodotti di lusso, per la persona, una crescita del 7%, sicuramente positiva, speriamo anche che il mercato italiano sia compreso in questo e dia un contributo positivo a questa crescita. Molto interessante la crescita prevista per il Nord America, 9% nell'anno, di cui un 9,5% nel primo semestre e l'8,5% nel secondo. Gli Stati Uniti, in particolare, stanno crescendo a tassi ancora superiori di Canada e di Messico. Notizie particolarmente positive vengono dall'America Latina, 12,5% di crescita nel primo semestre e nel secondo semestre dell'intero anno, trainate in particolare dal Brasile, ma non solo, perché, come dire, l'attitudine sociale, la vita sociale dei latinoamericani costituisce, come dire, il driver principale di crescita. Nel caso del Latin America avevamo previsto a ottobre un 10,8% e anche qui abbiamo, come vedete, un aggiornamento in crescita della previsione. Purtroppo dobbiamo prevedere, viceversa, una diminuzione per quanto riguarda il Giappone in ragione del terremoto dell'11 di marzo di quest'anno, che si combina con questa crisi generale dell'economia che sta impattando sui consumi, in particolare di beni di lusso. Ricordiamo che l'anno record è stato quello del 2006 e sono già passati tanti, tanti anni. Noi prevediamo un meno 9% nel Giappone intero anno, forse siamo stati un po' pessimisti, ma riteniamo sostanzialmente che questa sia la combinazione di un meno 12% per il primo semestre, dove l'impatto delle due settimane immediatamente dopo il terremoto evidentemente è stato particolarmente significativo, e invece una crescita molto più contenuta del 7% nel secondo semestre. Per quanto riguarda l'Asia, invece, abbiamo fatto una previsione del 15,8%, adesso aggiornata, aggiustata al 20%, e riteniamo che il 20% sia non solo per l'intero anno, ma anche per il primo e per il secondo semestre. È evidente che all'interno di questo 20% la Cina da sola, la Cina Repubblica Popolare, probabilmente crescerà del 25% al 26% o 27%. Abbiamo fatto un piccolo ritocco in negativo per quanto riguarda la crescita del mercato del Medio Oriente, ora 7% nel primo semestre, nel secondo semestre, nell'intero anno, mentre a ottobre eravamo stati più ottimisti, avevamo previsto l'11,5%. Probabilmente avevamo pensato ad una crescita molto molto forte dei turisti, i turisti nel Medio Oriente ci sono, ci sono stati anche in questa stagione natalizia, in questi primi mesi dell'anno, purtroppo stanno mancando da marzo in poi anche in Medio Oriente dei turisti giapponesi e crediamo che questa previsione più contenuta sia comunque più corretta e in ogni caso positiva. Il resto del mondo l'avevamo previsto al 9% e al 9% manteniamo questa previsione di questo maggio 2011. Per quanto riguarda la previsione più difficile, che è quella che è relativa alla marginalità delle imprese, noi avevamo previsto ad ottobre 2010 una previsione dell'EBIDA per il 2011 pare al 15% rispetto all'intero anno 2010. Riteniamo di poterla in questo caso correggere leggermente a ribasso e riteriamo che ci sarà soltanto una crescita media del 13% rispetto alla media del 2010 e questa in ragione del fatto che i mercati crescono, i consumi crescono, ma cresce anche la concorrenza e la concorrenza per definizione in qualche misura abbassa i margini, soprattutto di quelle che non sono i super brand. Arrivederci, a presto!